Lo qui Reziv e benvenuti ragazzi su Fortnite, oggi ragazzi appuntamento incredibile in quanto Andremo a scendere nella nuova zona, il campetto con lo stadio da calcio, quindi ve lo farò vedere Vi farò vedere una grande partita con un finale davvero figo Prima di lasciare un video ragazzi vi ricordo che sono in live su Twitch ogni giorno dalle 14 alle 17.30 Basta andare su twitch.tv slash Reziv E che dire ragazzi, buona missione Minchia quello blu, veramente quello blu è preso Stai a me sto coso Vabbè con antipompa, mi serve pure un'arma primaria però eh E io a quello come ci sparo dall'assù e dall'aggiù Ok so come ammazzarlo Ok poi tutti io c'ho i pump praticamente Gli altri giocatori non avranno tac, tutti io ce l'ho Tac, pump, 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 pump Dai ti sei bevuto il mio scudo però Ogni gioco con voi Durante dei giorni prestabiliti Se no tutti cominciano a chiedere di giocare Io non alleno perché Mi alleno di più in solo che in altre modalità Però se puoi giocare con me comunque Se mi segui su Instagram lo scriverò là Il giorno preciso dove gioco con tutti Ah siamo solo 14 in sta zona E vabbè quando ne trovo uno raga Vai vaghetta Eh Quello si Che poi questo non ha capito niente ragazzi Poverino non ne ha capito niente Cioè gli ho tirato proprio il lanciagranate Perfetto non ha capito niente Quello che aveva il Grillo Scar Neanche ha fatto in tempo a girarsi Che era già morto con 10 HP Poi io ne ho lanciato un'altra Ha fatto la fine di Krilin Tensi No Krilin l'ha fatto con Goku Però l'altro l'ha fatto con Tensi Stessa cosa Venga bene Questo è Easy Win Ok abbiamo perso Mi si uscito Qua Questo è con i fiorellini È un punto perfetto Ah che bello In memoria di Rezi È della sua Easy Win Dove è la gente Ciao No no fermati 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 Ti sparo così Ti giri Ti giri Ok Ok Mi ha traccato Mi ha traccato Ok nice Mi ho sparato perché se non scappava Ehm Sinceramente Oggi troppa gente che scappa Dove è la gente O comunque ho 6 kit Piano piano si lavora Piano piano si spara Pam 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 Ci sta Ricordati le casse E io già non me le ricordavo Capito Io già non mi ricordavo un cazzo Eh per questo ti dico Se me lo dimentico Non è colpa mia Cioè Eh che ci posso Ah sono full di scudini No Wow 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 Proprio qui in mezzo Davvero molto interessante Signori Molto molto interessante Aspetta un secondo Tu che hai? Che vendi? No? No Oh ti prendo solo perché Devo fare la missione Aspetta ma i materiali Ammo li prendo Bye Ok Che faccio? Ci vado Lui è nel ground Quindi comunque Oh oh Ho sbagliato Perfetto No No io ci rinuncio Con questa certa gente ragazzi Ci rinuncio Comunque le vie non fa Ora che nessun pompa Fa un cazzo di danno Cioè Vi giuro Io non Sinceramente Non so Quale pompa utilizzare Nessuno fa un danno Cioè Quattro volte l'ho preso Col pamper Col Con livi Ma veramente Veramente Si stava nascondendo così Ma la dignità Ma signori Ma che vergogna Mi 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 Rectato male, signori Male, l'abbiamo visto tutti Eh, che l'ho recitato male, eh Tutti qua, tutti t'accordo, eh Tutti sì, sì, vedo tanti sì, signori Vedo tanti, tanti, tanti Sì, comunque, se l'ho recitato male L'ho recitato male, cioè, non è che ora Ehi, io conto da Bias